Allora, che cosa ne pensi? È bellissima! Ero sicuro che ti sarebbe piaciuta. Sembra una favola. Cosa sono? Non lo so, erano dentro il pesce. Sembrano pepite. Ma no, sono sicuro che non valgono niente. Ho paura che questo nostro disperato tentativo di dimenticare il passato ci faccia anche dimenticare perché ci amiamo. No, non lo so, erano dentro il passato. 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 Grazie a tutti.